Sindaco, ma com'è che siete diventati un'azienda sociale in questo paese? Siamo diventati un'azienda sociale perché era l'unico modo per porre freno all'impoverimento demografico. Quindi abbiamo fatto questa scelta, condivisa la cosa bella da tutta la popolazione, quindi abbiamo invertito la tendenza, abbiamo una popolazione inclusiva ed integrata con gli ospiti che vengono dai paesi africani, vengono dal Bangladesh, vengono dall'Ucraina, vengono dall'Afghanistan e quindi è una bella realtà positiva sotto tutti i punti di vista. Ma è soltanto un'inclusione di numeri o anche di fatto? È una inclusione sostanziale perché c'è il radicamento nel nostro paese di nuclei familiari che hanno compreso che è un paese dove si vive bene, si vive in modo sereno e si è accettati nella più completa tranquillità. Quanti centri gestite? Gestiamo due centri in loco, uno per adulti e uno per ordinari, 25 posti gli adulti e gli ordinari, 16 posti minori non accompagnati. In più gestiamo altri 5 centri che dipendono da Monteleone come ente attuatore, 3 centri per ucraini, 20 posti a Sant'Agata, 20 posti ad Accadia, 20 posti a Deliceto. E poi due centri per Afgania, Danzano e Savignano. Monteleone è proprio nella culla del subappennino anche dal punto di vista ambientale. Si parla sempre tanto di transizione ecologica, di comunità energetica. I vostri nuovi abitanti vengono anche utilizzati per questo? Sicuramente. È una storia che viene un poco da lontano. Noi abbiamo nel nostro DNA lo spirito inclusivo. Abbiamo una popolazione che fino agli anni 50 era intorno ai 5.000 abitanti che è emigrata nella città di Toronto e nelle città del nord Italia. Quindi dal 1996 abbiamo dato impulso per avere dei finanziamenti da utilizzare nel sociale alla creazione di centrali eoliche. e continuiamo su questa strada, rendendoci conto che il fare in modo di arrestare l'impoverimento demografico va di pari passi con queste nuove tecnologie. Bisogna fare in modo che le cose viaggiano assieme. Quindi nella prospettiva diventerete una comunità energetica autosufficiente? La speranza e l'obiettivo è questo. Bisogna andare e viaggiare in quella direzione, altrimenti non si va da nessuna parte.